...i momenti di felicità. Anche i miei. Adesso appena... appena ha fatto l'esame ci facciamo un viaggetto io e te. Il viaggio della maturità, eh? Perché non ho voglia di stare un po' di tempo con te. Solo un po'? Vabbè. Perché stai ancora con lei? L'ho detto, non è facile lasciare una persona. Ma se hai detto che non l'ami più. Ma che c'entra? Non è facile lo stesso. Ma io sono stanca delle bricele. Ti faccio lavar la macchina? Cretino! E poi c'è, si vuole che ha bisogno di un padre. Vabbè, ma cosa c'entra? Potresti vedere ogni volta che vuoi, lo sai, dai. No, amore, no. Non mi forzare. Ma non mi forzare cosa, scusa? Cioè, non mi forzare che? Stiamo parlando. Stiamo bene così. Ah, tu stai bene così? No, ora rispondi, tu stai bene così. Perché io non sto bene così? Tu sei uno di quelli che pensa che l'amante si prenda la parte migliore del rapporto. È tutto rosa e fiori senza le rotture di coglioni, vero? Beh, cazzate. Tutte cazzate. Io non ci sto bene così. Come fai a non capire che voglio anche la parte peggiore? Voglio annoiarmi davanti alla tv. Voglio vederti gironzolare per casa con il pigiamone. E voglio incazzarmi perché non alzi mai la tavoletta del cesso. No, non alzi mai la tavoletta del cesso, dai! Mi voglio svegliare la mattina con gli occhi gonfi, brutta! Io ci voglio vivere con te, Piero. Tu ci vuoi vivere con me? E mi voglio vivere con te, Piero. Buono, tu sei. Grazie.